Finalmente, dopo tantissimi anni, siamo riusciti a divenire a un momento veramente importante e epocale per tutta la provincia di Macerata e per il nostro entroterra. Un'opera che è stata pensata, attesa e dibattuta per decenni, che arriva ad essere ormai nel rush finale per partire con la progettazione esecutiva e i lavori. Un progetto di rievanza nazionale, interregionale e nazionale. Perché? Perché la San Severino-Tolentino non unisce solo due valli del nostro territorio, ma chiaramente San Severino diventa uno snodo con la 502 sulla quale la regione sta già studiando investimenti per un miglioramento. Pertanto ci avviciniamo con la San Severino-Tolentino anche al nodo di Castelremondo e quindi alla Piede Montana e arriviamo sulla 77, quindi a Tolentino. Un investimento importante in cui creiamo e vogliamo mettere a terra il prima possibile le risorse. Oggi già partiamo con un protocollo d'intesa che dà il via libera quadrilatero per la realizzazione dell'opera con risorse già disponibili.